In politica da sempre ne abbiamo viste di tutti i colori, ma Beppe Grillo che si trasforma in un testimonial della campagna Provax è veramente una rivoluzione copernicana. Come la metamorfosi di Kafka, come la chiesa che ritira la condanna Galileo Galilei, come Salvini che va a fare il missionario in Africa. Eppure è successo, il fondatore del Movimento 5 Stelle buttando alle ortiche anni di predicazione antiscientifica sottoscrive il manifesto per la difesa della scienza dalle divulgazioni false di Santoni e Ciarlatani. Firma il documento del virologo Roberto Burioni, il più acerrimo nemico della narrazione oscurantista dei pentastellati sui vaccini. Aderisce al patto, pensate un po', insieme a Matteo Renzi, il più odiato tra i politici dell'universo pidiota, secondo la truce e patetica definizione dei leoni da tastiera del Movimento. Ma perché questa svolta improvvisa che ha scatenato, del resto ovviamente, la rabbia degli odiatori grillini delusi sul web? Difficile credere che una vecchia volpe, come il comico Beppe, non abbia calcolato l'impatto dirompente della sua mossa sulla base pentastellata. Che sui vaccini finora si era spinta, al massimo, a ripararsi dietro al ridicolo simoro dell'obbligo flessibile, coniato dalla omonima Ministra della Salute. Dunque, se l'ha fatto, sapendo ciò che sarebbe successo, c'è forse da trarne una conseguenza politica. Ormai Grillo è davvero fuori dal cielo pentastellato, oscurato e liquidato dal patto di ferro dei nuovi triunviri, Casaleggio Di Maio Di Battista. Un ribaltone che avrà conseguenze, forse anche sul governo, sicuramente sulla campagna elettorale per le europee. Vedremo, ma intanto diamo il benvenuto sulla terra al guitto genovese, che una volta tanto divorzia dalla superstizione e sposa la ragione.